Oggi inauguriamo qui questo spazio che siamo arrivati dopo tanti anni passando dal teatreno in piazza Don Leoni davanti alla stazione, siamo arrivati poco più lontano in via Solferino e da lì siamo arrivati poi in questo luogo, in questo spazio molto bello che è in via della Certosa agli Angeli di Mantova. Noi siamo qui con l'ufficio adesso e con questo magazzino che in realtà dovrebbe essere un magazzino ma è talmente bello ed è talmente affascinante che probabilmente cercheremo di farlo diventare uno spazio teatrale, uno spazio per accogliere le persone e soprattutto i bambini che vorranno venire qua. Ci può permettere di poter riuscire a fare qui in questo luogo una nuova sede con una nuova sala dove poter presentare almeno i nostri spettacoli e dove poter fare le nostre prove e i nostri lavori di preparazione anche del nostro lavoro. La mia attività e il mio lavoro è veramente molto complessa e molto varia e sono molto felice di poter essere anche in questo luogo qua perché per poter riuscire in un qualche modo a poter depositare un po' tutto il mio lavoro che ho fatto in questi anni che è incominciato veramente tanto tanto tempo fa perché la compagnia Il Teatro all'improvviso nasce nel 1978 che praticamente ha creato il teatro per l'infanzia e il teatro per i ragazzi. Per cui io sono molto orgoglioso di aver dato a Mantua tantissime cose sia per i bambini ma anche proprio per gli adulti, il teatro di ricerca e spero che questa cosa qua possa dare qualche frutto. Grazie 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 Grazie